Prima della perestroica il sistema era semplice, bastava farsi l'amica oltre cortina. Ma allora tu mi sposa? E' certo che ti sposa. Le donne dell'est non potevano venire in Italia finché un giorno... Il governo di Sofia ha accontato che anche la Bulgaria ha aperto le congelie. Jerry Calam e Zio Grigio. Occhio alla perestroica. Mercoledì 20.45 Italia 1.